Quando riaprono le scuole, Zai a colpa del Parlamento che non decide la data delle elezioni. Via la clausola antifascista polemica Vicenza al sindaco, noi contrari a tutti i totalitarismi. Spaccia droga sintetica e marijuana, i carabinieri arrestano un operaio pregiudicato. Toleranza zero per chi conferisce mali rifiuti a maggio, 10 maxi sanzioni. Calcio parla Mimmo Di Carlo, il l'ane ha meritato la promozione in Serie B, il sogno continua. G. Vicenza, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Allora subito in primo piano diamo uno sguardo al report inviato da Azienda Zero sui nuovi casi positivi. In realtà per tutta la giornata regna uno zero, ovvero non ci sono nuovi casi positivi. Il totale è di 19.194, il dato cumulativo. Andando a vedere nello specifico le persone ricoverate in area non critica, in terapia intensiva, buone notizie perché ci sono meno tre persone in area non critica, resta invariata la situazione in terapia intensiva, zero persone nuove in terapia intensiva, quindi sono ancora 15. Si sono registrati nella giornata odierna purtroppo due nuovi decessi, un totale di 1.407 persone che sono morte nei nostri ospedali dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Intanto sempre questa mattina puntualmente è intervenuto il governatore Zaia nel corso della puntuale conferenza stampa e ha parlato di questa incertezza sull'inizio del nuovo anno scolastico anche in Veneto e dà la colpa al Parlamento perché lì al governo non hanno ancora deciso la data delle prossime elezioni. L'incertezza sulla tornata elettorale blocca anche le scuole. Lo conferma Luca Zaia che sottolinea come sia impossibile organizzare il ritorno in classe degli studenti veneti con la spada di Damocle delle elezioni di settembre. Perché se il Parlamento non fissa sta data delle elezioni noi siamo sempre lì, cioè è veramente, cioè tocchi un punto cruciale, cioè noi oggi non siamo in grado di programmare l'apertura delle scuole perché volemo capire quando si va a votare. Capite che per noi è veramente imbarazzante questa situazione, non è mai accaduta nella storia d'Italia. E non è tutto, il mandato di regioni e sindaci è scaduto da un pezzo. Io penso che sia imbarazzante e anche disarmante assistere a un Parlamento bloccato da un dibattito sulla convocazione della data delle elezioni, quando ha davanti il Parlamento degli amministratori che sono sostanzialmente scaduti. Dal 30 maggio sei presidenti di regione e 1.500 sindaci sono scaduti, nel senso che hanno concluso la loro legislatura. Adesso è una questione decisamente calda a Vicenza, via la clausola antifascista ed è polemica in città. Il sindaco Rucco ha dichiarato siamo contrari a tutte le sorti di totalitarismo. Cos'è la destra, cos'è la sinistra? A Vicenza la storia è ancora quella, con il sindaco che ha tolto la clausola che obbliga a ripudiare il fascismo per occupare gli spazi pubblici. Decisione ratificata dall'ultimo Consiglio Comunale per cui da oggi il nuovo regolamento prevede la concessione a chi dichiara di riconoscersi nei principi e nei valori fondamentali della Costituzione e di ripudiare non solo il fascismo ma qualsiasi forma di totalitarismo e l'uso della violenza a fini politici. Noi diamo dimostrazione tutti i giorni, tutti i mesi e durante il nostro mandato da un paio d'anni ormai sulle politiche contro i regimi totalitari, contro il nazifascismo con tutta una serie di iniziative, le pietre d'inciampo, le lapide di ricordo dei deportati, le giornate dedicate alla giornata del ricordo e alla giornata della memoria, la Shoah, quindi non abbiamo bisogno di una clausola per far capire che abbiamo un pensiero diverso da questo punto di vista, noi siamo coerenti con le nostre politiche e andremo avanti in questa direzione. Francesco Rucco risponde così alle contestazioni, a cominciare da quelle mosse dall'ex sindaco Achille Variati che aveva introdotto la clausola nei suoi ultimi giorni trascorsi a Palazzo Trissino. Oggi l'attuale sottosegretario all'interno su Facebook parla di segnale preoccupante e di vergogna per Vicenza, tanto più in un momento storico particolarmente delicato come quello che viviamo. Gli fa eco Giacomo Possamai del Partito Democratico che all'epoca aveva firmato la mozione per introdurre la clausola. Oggi è il 96esimo anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti e la giunta di centrodestra, la maggioranza che governa la città di Vicenza, ha scelto di ricordarlo nel modo peggiore, cancellando la clausola antifascista all'interno del regolamento del comune. La promessa che facciamo fin d'oggi è che faremo di tutto per introdurla. Il centrosinistra promette battaglia, ma il sindaco Francesco Rucco non fa passi indietro. Non siamo contro l'antifascismo e quindi siamo a favore della libertà di impresa, perché questo è un regolamento che riguarda le attività produttive, ma non solo. Ma cos'è la besta? Cos'è la sinistra? Siamo alla cronaca. Spacciava marijuana e droga sintetica. Giovanissimi del territorio è stato arrestato dai carabinieri un operaio pregiudicato. Cornedo Vicentino, operaio 39enne, pregiudicato e arrestato dai carabinieri. All'interno dell'abitazione i militari sequestrano marijuana e 70 grammi di una polvere bianca, poi risultata essere anfetamine in gergo, conosciuta come SPID, droga che l'uomo spacciava ai giovani. Ad attirare l'attenzione dei militari, proprio l'uscita dall'abitazione del 39enne di due ragazzi, con dello stupefacente, i due sono stati segnalati come assuntori. Toleranza zero nei confronti di chi smaltisce male i rifiuti, conferisce male i rifiuti. Intanto a maggio sono state combinate 10 maxi sanzioni. Guerra al rifiuto selvaggio. Tante le segnalazioni che noi di Rete Veneta abbiamo ricevuto da voi telespettatori e che abbiamo portato alle autorità competenti. C'è chi abbandona le pattumiere per terra, c'è chi le conferisce in modo scorretto, c'è chi getta l'umido nel secco. Insomma, in città ci sono costruttori di degrado. La polizia locale però continua a colpire con raffiche di multe chi non rispetta le regole. Nel mese di maggio sono 10 le violazioni accertate, con 9 sanzioni da 300 euro e una da 50. Insomma, come aveva promesso l'assessore Simona Siotto, il principio è quello della tolleranza zero. La tolleranza zero, ma non solo lo chiedo io, lo chiede Vicenza, lo chiedono i cittadini di Vicenza, che sono sempre molto attenti a segnalare situazioni di degrado perché poi alla fine l'immondizia in strada è qualcosa non solo di sbagliato dal punto di vista ambientale, ma anche di brutto e che non va a favore della città meravigliosa che occupiamo. A maggio abbiamo avuto la notizia di ben 10 sanzioni in zone purtroppo note della città perché gli abbandoni o gli errati conferimenti riguardano soprattutto sempre le stesse zone che vengono monitorate con un sistema integrato, quindi le segnalazioni dei cittadini che ringrazio personalmente, persone, operatori in borghese e le nostre videosorveglianze con le autocivetta. Attraverso l'incrocio dei dati riusciamo ad elevare sempre più sanzioni. Io in realtà vorrei arrivare a zero, continuo a dirlo, non sono felice delle sanzioni, sono contenta e orgogliosa dei controlli, ma spero un po' alla fine che le sanzioni si abbattano costantemente. Dopo i centri estivi a Vicenza hanno riaperto anche le scuole dell'infanzia comunale, 16 le strutture che sono ripartite accogliendo 300 bambini. Riaprono a Vicenza anche le scuole dell'infanzia comunale, 16 plessi che accolgono fino a fine giugno complessivamente 300 bambini, un terzo dei circa 900 alunni dai 3 ai 5 anni dell'anno scolastico 2019-2020. Tutte le domande sono state accolte. Alla scuola dell'infanzia Palladio, come nelle altre strutture comunali, tutto è stato organizzato nei minimi dettagli per accogliere in sicurezza bambini e personale, dai sovrascarpe per poter accedere all'interno alla misurazione della febbre. Controllo del personale, controllo dei bambini, controllo dei genitori che però non accedono all'interno delle strutture, sanificazioni, misurazione della febbre, tutto quello che è richiesto, compreso la suddivisione dei giardini in zone, per evitare che i bambini si assemblino tutti in un unico posto. Ai genitori viene chiesto al momento dell'iscrizione di firmare un patto con il comune. Questo patto è necessario, è essenziale, soprattutto per l'aspetto sanitario, ma anche educativo. Ognuno si assuma le proprie responsabilità per avere un servizio di qualità e sicuro. Insomma, se il bimbo ha la febbre, la famiglia si impegna a tenerlo a casa e ad informare la scuola. Distanziamento sociale mantenuto, definiti i percorsi di accesso e uscita dalla scuola, mentre i colori diventano protagonisti per individuare i bagni e i lavandini da utilizzare. Il prossimo passo sarà l'apertura già dalla prossima settimana dei nidi, che andranno a coprire anche tutto il mese di luglio. Sulla polemica con i sindacati, l'assessore stempera il clima. Punti di vista che ci hanno fatto fare delle riflessioni, ci hanno fatto fare dei controlli quasi maniacali su quello che stavamo facendo, che ci hanno fatto prendere delle misure di prudenza. Dopodiché, quando si fanno delle scelte, è impossibile trovare l'accordo di tutto. 10 giugno 1848, 172 anni dopo, la città ricorda tutti quei vicentini che si batterono per liberare proprio Vicenza e tra l'altro valsa la prima medaglia d'oro al valore militare. 10 giugno 1848, 11.000 patrioti cittadini volontari oppongono una strana difesa ai 40.000 uomini del generale Radetzky, fino alla resa. Oggi, a Monteberico, in piazzale della Vittoria, l'amministrazione ha commemorato quei fatti che valsero alla città nel 1866, la prima medaglia d'oro al valore militare conferita da re Vittorio Emanuele II, ricorrenza che fino alla metà del secolo scorso vedeva un pellegrinaggio con partenza da Piazza dei Signori fino a Monteberico. Con la celebrazione di oggi si vuole consolidare il già forte senso di appartenenza civica che anima i vicentini. E siamo allo sport e calcio, parla Mister Di Carlo, il l'anno ha meritato la promozione in Serie B, il sogno continua, ci ha detto. Rilassato e sereno, Mister Di Carlo arriva in Casa Vicenza allo Stadio Menti dopo la sbornia da promozione dell'Ane in Serie B di lunedì pomeriggio. Un sogno che si è avverato. Il sogno e l'obiettivo mio e dei miei tifosi, della mia società, era di poter vincere in questi due anni, tornare in Serie B. Sì, ci siamo riusciti a primo colpo e questo è un merito di tutti. Una promozione che arriva, spiega Mister Di Carlo, grazie al gruppo e ad una mentalità che è cresciuta man mano. Una mentalità che solo quando puoi vincere bisogna avere e noi l'abbiamo avuta, che è la continuità. Una promozione che non ha avuto il battesimo del campo ma i giocatori sarebbero stati pronti a tornare a giocare visto che anche in tempo di lockdown si sono sempre allenati ma intanto da domenica liberi tutti. Chiuso un ciclo, se ne apre un altro, quello della Serie B e il Mister Di Carlo ha già le idee chiare. Bisogna consolidarsi in Serie B e mantenere il sogno. Queste sono le due cose che voglio trasmettere a voi e ai nostri tifosi. Quelli che si andranno a individuare saranno giocatori funzionali a quello che è il nostro gruppo. La base dunque c'è per la BIMA va consolidata e la scelta dei nuovi giocatori si farà oltre che sull'aspetto tecnico, sulle caratteristiche morali e di personalità per stare nel gruppo. Un pensiero importante va ai tifosi. I nostri tifosi sono unici, fantastici, perché nella negatività degli anni precedenti sono sempre stavicini alla squadra. Quest'anno hanno dimostrato di essere i veri vincenti di questa Serie B che abbiamo conquistato. Quindi dobbiamo tenersi stretti e dedichiamo sia alla società che ai tifosi questa vittoria. E prima dei saluti ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 21.15 con Focus. Con il nostro direttore ci saranno Graziano Azzalin, Leopoldo Bottero, Roberto Ciabetti, Elena Donazzan, Laura Puppato e Simonetta Rubinato. Questo per noi è davvero tutto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Una buona serata. Arrivederci. Ben trovati al meteo. Prosegue una certa instabilità sul nostro territorio dove tra l'altro il maltempo ha già causato nei giorni scorsi numerosi danni. Il dettaglio di giovedì 11 giugno. Sul Veneto cielo via via più nuvoloso, sulla pianura e sui rilievi, specie al pomeriggio avremo piogge discontinue che si verificheranno a più riprese fino ad interessare diffusamente il territorio regionale. Generale miglioramento entro la notte. Temperature in nuovo calo, minime fino a 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 24 gradi all'incirca. Instabilità diffusa anche a Vicenza. In città ma anche in provincia non cambia di molto la situazione. Avremo rovesci e temporali, specie a partire dalle ore pomeridiane, alternati a parentesi maggiormente asciutte e soleggiate. Infine, anche qui, temperature in lieve diminuzione. Dal Meteo di Rete Veneta per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL e con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene.